Sciare anche dopo il tramonto in Trentino sono numerose le piste dove è possibile farlo grazie agli impianti di illuminazione. Una delle prime località ad offrire questa opportunità è stata Madonna di Campiglio che ha messo a disposizione il tratto denominato Canalone Miramonti già sul finire degli anni 90. Un'esperienza che si può provare anche a Folgaria, Marileva, al Passo del Tonale, Cogolo di Peio, in Val di Non e nel Trentino orientale. Per maggiori informazioni www.visitrentino.it